A come api, come allarme. Sono circa 20 anni che nel mondo occidentale è iniziato un lento declino del numero delle api. Mai negli Stati Uniti c'era un numero di impollinatori domestici così basso e sono quasi, sempre intorno ai 20 anni, che in Europa c'è stato il 20% delle morti delle colonie di api. Senza api e altri insetti impollinatori si possono mettere in discussione delle culture che potrebbero rischiare a subire una riduzione importante e significativa. Quindi ci sono anche una perdita di benefici economici, oltre che di produzione. Insomma, è una sorta di cambiamento che può interessare gran parte della nostra alimentazione, del nostro modo di mangiare e di rapportarci con le culture. Perdere l'ape sembra quasi un segnale di come noi stiamo avviandosi praticamente verso qualcosa di artificiale, perché l'impollinazione dell'ape è sicuramente uno dei meccanismi della natura di eccellenza. E il fatto che venga a mancare questa operazione naturale mette in discussione, soprattutto, come noi, in maniera molto superficiale ci stiamo avviando a un altro tipo di ecosistema che è discutibile. È una notizia di qualche giorno fa dell'ANSA che tutti i campi utili per la biodiversità, o quantomeno per i biocarburanti, scusatemi, che vengono sviluppati in soia, mais e canna da zucchero, che quindi producono questo tipo di nuovo alimentazione per le automobili, se fossero convertiti in alimentazione per gli uomini, bene, quasi un terzo del mondo non soffrirebbe la fame. Quindi bisogna fare attenzione e stiamo cercando di fare attenzione con i nostri ospiti che ci spiegheranno bene o male questo aspetto e sono praticamente Roberto Ferrari, apicoltore e perito agrario, benvenuto Ferrari, grazie, e con l'antropologo e apicoltore anch'esso, il dottore Andrea Triana. Grazie della vostra presenza e grazie di essere venuti qui in trasmissione. E grazie ai telespettatori delle pace che si sono soffermati su momenti. Ferrari, perché scompaiono le api? E lei, nella sua cultura, ha questo tipo di fenomeno? Lo registra anche lei? Sì, è un fenomeno che si riscontra ormai da parecchi anni. Non soltanto le api, quelle che conosciamo noi, ma anche tutti gli altri apoidei, che sono i bombus, le altre tipi di api, anche api solitarie, e che dove abitavamo noi, a mille metri in montagna, c'era una grande ricchezza, una bella biodiversità di questi apoidei e piano piano cominciamo a non trovarli più. Anche le api hanno cominciato a declinare praticamente il numero delle famiglie e soprattutto è diminuito moltissimo quello che è proprio la biodiversità floreale che possono trovare le api. Adesso anche in un posto con grande, non soggetto all'agricoltura intensiva, perciò boschi, prati e pascoli, le essenze si stanno riducendo in modo allarmante. E piano piano può darsi che avremo dei mesi, come sta succedendo, di fine estate dove le api non avranno più nulla da bottinare. Quindi la causa? La causa principale probabilmente è il cambiamento climatico. Poi c'è un cambiamento demografico, praticamente posti di montagna o collinari pian piano stanno per essere abbandonati. Sta ritornando, qualcuno dice che è un bene, le culture boschive, il bosco, ma il bosco è abbastanza, dal punto di vista floreale, un povero di biodiversità. Quello che era importante una volta era il paesaggio antropico che sosteneva le famiglie di api. Che adesso è cambiato. Che adesso, appunto, come essenze, pascoli e prati, e soprattutto fiori, stanno diminuendo. Stanno diminuendo per le api, stanno diminuendo per gli erbio, diciamo, gli animali che noi possiamo allevare. Dottor Triana, in Italia sembra che viviamo una doppia sfortuna, perché, come diceva Ferrari, cioè il calo delle api, in un qualche modo si somma a quello che è la scomparsa, il rischio di scomparsa, dell'ape mellifera ligustica spinola, che sarebbe praticamente la nostra ape madre. Ed è potentissima, è bellissima questa ape. Eppure? No, è un'ape naturalmente piena di pregi, potremmo dire. È l'ape che l'Italia e gli apicoltori hanno esportato in tutto il mondo. È un'ape nota per delle caratteristiche uniche, veramente oltre quelle produttive, quindi è una buona produttività, è un'ape docile, quindi si può allevare con estrema facilità, non è aggressiva. Come detto, l'abbiamo esportata in tutto il mondo, però qui in casa sta soffrendo, noi non siamo riusciti, non stiamo riuscendo a tutelarla, a salvaguardarla. Questo perché? Perché un vizio un po', un pessimo vizio degli apicoltori è un po' l'invidia verso l'altro che magari produce più miele. Questo cosa ha comportato? Ha comportato il fatto di andare a cercare delle razze non autotone, non del nostro territorio, ma... Ape importate. Ape importate, certo. E cosa è successo? Si è determinato il fenomeno dell'ibridazione, cioè il patrimonio genetico della nostra ape pian piano si è inquinato, tra virgolette, con il patrimonio genetico di quest'altre razze. E quindi si è indebolita? Sì, creando degli ibridi. Questi ibridi che cosa hanno determinato? Questi sono dati scientifici che nel primo anno c'è quello che viene comunemente chiamato un vigor ibrido, cioè ti produce di più quest'ape, ma poi l'andrà a ripagare questo vigore negli anni successivi perché ha delle caratteristiche non comparabili con la nostra... E quindi è meno resistente, subisce di più... Meno resistente, meno adattabile al nostro territorio. E quant'altro. E quant'altro. Dove è possibile, Ferrari, trovarla ancora la pedigustica? Sì, abbiamo fatto anche personalmente delle ricerche e siamo andati logicamente a cercarle nei posti dove l'agricoltura era meno intensiva, dove potevano resistere dei ceppi autoctoni. Siamo andati per esempio nei vecchi conventi dove nei conventi c'era il famoso orto conclusus e l'orto chiuso e lì dentro c'era l'usanza per i monaci ma anche per le suore di allevare delle api per il loro consumo. Lì dentro logicamente potevano trovarsi dei ceppi in purezza dell'ape ligustica. Comunque, purtroppo, i vari ceppi, le varie razze di api visivamente non è facile riconoscerli e devono essere fatte delle analisi più approfondite. Queste analisi approfondite ci stanno dicendo che dal 40 al 50% ma forse anche di più il patrimonio genetico apistico italiano è eroso, è inquinato come dicevamo prima. Ma possiamo salvarlo quell'altro 50% che è avanzato? Nel senso si può trovare un numero di alveari di apicultura tradizionale che la ligustica possa in qualche modo ritrovare l'ambiente adatto? Bravissimo. Praticamente potrebbe essere riscatto proprio dei piccoli apicoltori. L'apicoltura tradizionale che diceva lei e i piccoli apicoltori con un numero di famiglie abbastanza ristretto potrebbe veramente ricominciare o cominciare a fare selezione genetica. Fortunatamente l'ape ci aiuta in questo perché produrre regine geneticamente pure non è poi così complicato. L'ape vorrebbe venirci incontro dobbiamo essere noi a volerla aiutare e probabilmente a chiedere anche un sostegno maggiore proprio anche dal punto di vista dell'informazione come stiamo facendo cercando di fare qui. Allora in altre parole c'è un potenziale produttivo dell'igustica che può cambiare non solo diciamo le sorti delle api nel nostro paese ma che può dare una produzione di ottimo miele. Quindi c'è anche una possibilità di professionalità? Certo. Dottor Triana? Sì, sì. Oggi io penso necessario è necessario formarsi perché l'apicoltura che abbiamo conosciuto pensiamo che sia destinata a scomparire. Oggi è un settore della zootecnia della zootecnia più avanzato con tecniche particolari che possono come detto aiutarci nella selezione della nostra ape. Quindi la formazione oggi è necessaria. Ma la formazione potrebbe produrre nuovo lavoro nuovi sviluppi nuove piccole aziende che magari nel miele possono adattarsi a una realtà che cambia ma che cambia in qualità mi sembra. Basti pensare che noi ancora importiamo miele abbiamo ancora un grosso deficit perciò c'è ancora parecchio miele in Italia che possiamo produrre e non soltanto proprio ultimamente sono emerse delle produzioni che non vanno a discapito quella del miele ma sono molto secondo me cominciano a essere interessanti come proprio quella del polline della pappa reale e della propoli e poi appunto ritorniamo al discorso anche regine selezionate di ligustica anche regine selezionate l'igustica ma per la produzione di questi nuovi prodotti si possono aprire delle porte nuove diciamo si possono aprire non sfondare ma aprire no no ma stiamo tentando di capire perché con una crisi in corso con la difficoltà del lavoro se consideriamo che e lei Ferrari dovrebbe saperlo bene dal momento che appena nel 2050 sembra che nell'intero pianeta avremmo perso quasi il 50 delle razze domestiche quindi tutte le tradizioni della vacca che moriva e si festeggiava l'uccisione del maiale ovviamente era una tradizione rurale contadina però che comunque aveva una biodiversità negli animali sicuramente più ricca più 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 variegata di quello che poi praticamente è l'area industriale ma domando io più razze permettono un altro tipo di alimento per l'uomo e siccome c'è questa ricerca della nouvelle cuisine della cucina di qualità allevare queste razze in mia distinzione può portare dei futuri professionali o quantomeno per dire delle piccole aziende di produzione diversa io ci scommetterei uno perché appunto sono il consigliere dell'associazione RARE razze autoctone rischio estinzione perciò sono stato nel 2000 tra i fondatori e ci credo tantissimo io penso che proprio l'Italia proprio è vocata alle produzioni non soltanto di qualità ma di alta o altissima qualità e dobbiamo non risolveranno sicuramente la fame nel mondo i problemi del pianeta nel 2050 però sarà un aiuto sarà un appoggio probabilmente nel 2050 dovremo far convergere tutte le esperienze sia dell'allevamento intensivo sia di quello tradizionale che ci piace di più che stiamo cercando di portare avanti nessuno escludere all'altro a proposito dovremmo forse inventarne uno nuovo cercarne uno nuovo l'Italia è ancora e dobbiamo metterci questo grosso fiore all'occhiello è uno dei produttori di altissima qualità queste razze possono già chi alleva o alleverà queste razze può già mettersi all'occhiello questo fiore cioè l'elevata qualità dei prodotti perché se no non avrebbe senso se pensassimo solo alla quantità non avrebbe senso queste razze in Italia ce ne stanno ancora tantissime tante le abbiamo perse purtroppo ma tante stanno aspettando nuovamente di riaccompagnarci in un nuovo viaggio e i giovani come chiedeva lei i giovani possono e debbono secondo me riavvicinarsi a queste a queste produzioni e a queste razze nella mia piccola esperienza mi sento di dire di capovolgere una cosa che sembra difficilissima di capovolgere interamente la filiera cioè partire da cosa si vuole produrre da cosa ci porterà via la passione ci impegnerà la passione per tanto tanto tempo perciò prima il prodotto che potrebbe essere un prodotto tradizionale rivisitato addirittura un prodotto innovativo e poi tornare indietro a vedere quali sono i macchinari che servono quindi ci sono delle esperienze sicuramente da affrontare dottor Triana però sembra che c'è una tendenza da parte dei giovani di riavvicinarsi sulle aziende agricole questo è vero? è vero è un fenomeno che è evidente oltre all'apicoltura anche nelle altre diverse attività agricole volevo aggiungere a questo discorso anche da non sottovalutare la sostenibilità delle razze a via di estinzione quella a rischio di estinzione proprio perché si è notato come hanno la caratteristica una caratteristica fondamentale è la rusticità cioè sono razze che sono adattate a questo territorio e quindi non hanno bisogno magari di queste strutture enormi queste stalle ipertecnologiche oggi ma magari allo Stato Brado hanno bisogno di un piccolo riparo però quindi economicamente sarebbero anche vantaggiose che giocare per dire su campi di produzione e su grandi numeri non sottovalutando che la qualità poi del prodotto è eccellente e quindi potrebbe trovare degli spazi poi di condizioni ribadirei l'idea proprio il bisogno di fare formazione e di formarsi allora parliamo di formazione formazione noi mi sembra che in Italia ci sta una mano d'opera diffusa straniera allora la domanda la faccio a entrambi di modo che sulla base delle vostre esperienze questa mano d'opera straniera e non parlo di quella stagionale che è legata a settori di produzione agricola ben determinati e poi termina per dirti nel periodo definito e purtroppo poi si creano delle altre situazioni parliamo invece della mano d'opera stabile nelle campagne è una mano d'opera di qualità quella che noi importiamo rispondo io no per il momento ancora no l'unica che io posso conosco è quella degli indiani che avendo le vacche come per loro le vacche sono sacre negli allevamenti del parmigiano reggiano nei grandi allevamenti lattiferi logicamente trattano al meglio gli animali per il resto non ho altri altri esempi da portare però è la stessa cosa giovani e stranieri vanno formati andrebbero formati proprio e mi dispiace ribadirlo sulla grande qualità dei prodotti che possono venire fuori e lei secondo la sua esperienza sono d'accordo aggiungerei il fatto che c'è sempre bisogno di una chiave in più che è la passione secondo me al di là della formazione se incrociamo nella persona che si vuole avvicinare a questa attività un briciolo di passione allora si può instaurare sia un buon rapporto lavorativo che anche una collaborazione duratura altrimenti è il solito discorso di questi lavori a termine lavori non aver paura di provare dei prodotti impossibili niente è molto complicato tutto è molto complicato ma niente è impossibile un formaggio un formaggio particolare un formaggio difficile si può riuscire a produrre quando riusciamo a produrli abbiamo un'autostima enorme che può portarci noi abbiamo un esempio secondo me noi produciamo aviregine qualche tempo fa ci sembrava impossibile non proprio impossibile ma quasi adesso la nostra produzione di aviregine è quasi all'ordine del giorno che è appassionata se mi sembra che siete concordi su quanto è necessaria una formazione che poi deve essere ovviamente sostenuta dalle diverse applicazioni sul territorio a livello geografico e via di seguito ma le istituzioni come rispondono in questo perché la formazione non nasce soltanto dal dal mastro che poi si rivolge al discente ma stiamo parlando per dire di corsi specializzati con docenti qualificati e quant'altro esistono queste opportunità nel senso l'Italia l'Italia territoriale istituzionale sta avvertendo questo bisogno questo cambiamento in corso? Allora ultimamente sono stati varati dei piani per la salvaguardia della biodiversità proprio zootecnica io penso che le istituzioni debbono essere praticamente spinte devono essere sollecitate per quanto ne so io vengono elargiti tanti e tanti soldi proprio per i trattori per i mezzi è poca roba secondo me non è così importante dovrebbe essere proprio la moltitudine di giovani o anche di stranieri che chiede formazione nell'ambito di queste forme di contribuzione è prevista però in genere non viene sfruttata appieno quindi non è che esiste una piena coscienza consapevolezza cioè mi sembra che alla fine se l'Europa indica una serie di investimenti in campo agricolo ma è soltanto meccanico mentre voi state richiedendo un discorso differente e cioè su una formazione che permetta l'applicazione professionale in varie aree di quello che è poi il patrimonio si è espresso meglio di me ma questo è il concetto anche perché nella nostra piccola esperienza abbiamo visto come spesso fondi europei o non europei indifferentemente producano nell'immediato una meccanizzazione magari nelle attività agricole ma poi questo immediato muore sta lì a sé stante perché non c'è strategia non c'è strategia non è un'azione che si protrae che possa poi avere risultati sul territorio quindi allora per capirci almeno per tentare di capire serve una strategia e questa strategia dovrebbe essere una strategia di governance su quello che è il territorio vedendo quello che sono le necessità per poter poi e ritorno a bomba questa governance cioè quindi il referente politico e comunque l'amministratore del territorio è almeno attento ad ascoltare quelle che sono le istanze voi secondo la vostra voi da dove venite? secondo me sì sarebbe attento come ripeto va sollecitato va spinto logicamente se non sente voci è sensibile io penso sia sensibile se non gli arrivano voci logicamente non le sente sente altre voci quelle sono più appunto più impellenti sembrano più impellenti mezzi agricoli macchinari che sono forse delle scorciatoie o forse sono probabilmente anche degli acquizi che permettono un guadagno sicuramente promettono ma non lo so se lo mantengono io ripeto questa è molto più facile la vostra area di provenienza? ma nella nostra area di provenienza io ripeto qual è? Riedi la provincia di Riedi la provincia di Riedi non è così fortunatamente vocata a un'agricoltura intensiva ci sono mille piccole realtà che forse dovrebbero cominciare sarebbe anche più più malleabile su questo discorso che è stato fatto cioè che dove non esiste una produzione intensiva ed esistono delle possibili realtà sul territorio sparse questo qua creerebbe anche maggior ricchezza nella direzione sicuramente sì potrebbe anche essere più gestibile il fatto essendo un territorio con un'agricoltura intensiva pianificare le azioni si potrebbero anche gestirle per indirizzarle nella maniera giusta quindi un po' come tornare all'origine lentamente sì con tempi forse biblici i nostri erano territori una volta erano chiamati svantaggiati o addirittura depressi piano piano adesso almeno sono diventati marginali e io ripeto per me io vedo delle miniere d'oro io vedo appunto delle miniere d'oro a cielo aperto dove nessuno si incarica di raccogliere queste pepite bene io credo che più di questo non si può dire esistono delle miniere d'oro che vanno soltanto coltivate per far sì che ci sia un nuovo tipo di sviluppo un nuovo tipo di futuro e soprattutto per i giovani sperando che questo non sia un sasso lanciato al vento ma che raccolga praticamente un'attenzione da parte delle istituzioni grazie per la vostra attenzione grazie per essere intervenuti grazie a lei grazie a lei grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti